... ... ... ... ... ... Aspetto l'ordine. Ho il nemico. Mi serve una posizione migliore. Ho il bersaglio. Preso, è morto. Ok, ecco la base dell'Unidad. Stiamo cercando il capitano che è in contatto con Yuri e Polito. Il bersaglio ci serve vivo. Roger, qua. ... 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 Sì, c'è una militaia. Il posto è prohibito. Tengo ganas di avervivenci. Sì, c'è una militaia. Il posto è prohibito. Sì, c'è una militaia. Il posto è prohibito, un giorno potresti finire tu appeso al soffitto. Non puoi fidarti. Sarebbe meglio per te se li eliminassimo. Senti, non sono una spia, ma diciamo che sì, mi fanno paura. Il fatto è che non sono nemmeno Itaqua. Allora farli tornare a Itaqua. Di che hai un pacco per loro. Oggi è pulito. Agnello pronto per la consegna. Un borego, vale. E' il fatto una militaia. E' stato una mirada, che è stato una mirada. Grazie a tutti